Il rappresentante della minoranza risulta assolutamente cancellato. E lo dico pubblicamente e me ne dovete dare atto tutti, della non interferenza a nessun livello, neanche a titolo personale. Però sono il garante della maggioranza, sono anzi l'espressione della maggioranza. E se la maggioranza fa un accordo con la minoranza, a casa mia questi accordi si rispettano. Perché altrimenti noi perdiamo la dignità. E la dignità non si può perdere per una nomina. Quindi io suggerisco di sospendere, di trovare una soluzione politica a questa vicenda che impedisca la violazione di un accordo, ripeto, al quale io non ho mai partecipato. Ma che mi era noto. E quindi siccome credo di non dover venire meno allo stile che ha caratterizzato tutta la mia vita io non posso che essere d'accordo con gli interventi dei capigruppo della minoranza. Se siamo tutti d'accordo, la soluzione politica c'è. Si tratta di decine. Sospendo e convoco la riunione della Sala Guacero, la riunione dei presidenti con il presidente Emiliano. Grazie. Grazie.